Eccoci qui con il grandissimo Gabri Gabra, ciao! Ciao a tutti quanti voi! Ecco qua, è stata una festa bellissima del primo festival di San Michele nel comune di Apriglia Sì, una serata bellissima alla quale abbiamo partecipato io, Luciano Lembo e Rocco Gigolo è andata molto bene, insomma tu che eri qua che cosa ne pensi? Complimentoni, veramente tantissima gente, tutti coinvolti, tutti con il tuo rap, con il grande Luciano Lembo, con il grande Rocco Gigolo Grandissimo Rocco che è qua, che è insieme a lui, se poi hai voglia di intervistarlo io credo che per lui non possa essere con prestigio Ma certamente, lui adesso piano piano si avvicinerà a noi, che lui ci sta registrando, eccolo qua Ma come facciamo? Aspetta, vieni, vieni, facciamo il selfie, vieni qua, vieni, riprendiamo Ecco, vieni, vieni, vieni qua, ecco qua, ecco qui, siamo tutti e tre Bene, buonasera signori, sì sono Rocco Gigolo, quello di prima, loro mi hanno visto già sul palco, va benissimo Lui è Gabri Gavra, è l'altra metà del mio cielo, va bene, eccoci qua Bene, cosa dire, donne, vostro marito è alla frutta, io sono il tiramisù, eccomi qua Bene, ok, possiamo andare avanti Ecco qui, allora, questa serata è stata stupenda, salutiamo Rocco, grazie della intervista flash, diciamo Sì, è stato rapido, noi magari possiamo prendere ancora qualche battuta in più, però lui è stato... È durato poco questa volta Sì, è durato... Ecco qua Ecco, ritorna perché non ha... Sì, no, questa cosa, lui ha detto, è durato poco, guarda E' dall'82 che non mi dicono questa cosa, è durato poco, guarda Dai tempi dei mondiali Sì, dai tempi dei mondiali, sì, infatti News 25 News 25 succede questo e altro Sì, però possiamo dare una mano anche a Gabri Gavra, che sta attraversando un periodo non bello, eh Cioè, praticamente è stato lasciato dalla sua donna Io prima ho detto sul palco, l'ha lasciata per colpa mia, perché si è messa con me, guarda È la verità, è la verità, perché lui è alto, sì, ma io sono più alto da sdraiato, è questo che si sappia in giro Vogliamo fare un appello? Continuare all'intervista Vogliamo fare un appello per la ragazza di Gabri Gavra? Sì, allora, utilizzo voi di News 25 per fare questo appello, Michela torna, vuoi anche te unirti al mio appello? Certo, adesso entro in qualità di salutatore del blog che faccio gli appelli e come salutatore del blog dico Michela, Michela torna Michela era un problema Michela era un problema Ho fatto San Michele, San Michele, Michela, oggi la festa, perciò potresti fare, diciamo, far intercedere il San Michele San Michele, io spero che San Michele con Michela mi aiuti e soprattutto voi di News 25 Stiamo filendo sul drab, però, un po' alla volta Tra poco piangerà, tra poco Sì, ma dove ci possiamo vedere in diretta? Dappertutto, in tutto il mondo News 25, canale? Punto it, canale 25 Canale 25, ci vediamo lì Chiudiamo, dal vostro Gabri Gabra Chris Attigere, salutatore del blog Salutiamo intanto tutti gli utenti di Facebook, Youtube, MySpace Twitter, certamente Instagram Instagram Da Badu Badu, Badu, Michela, io mi preoccuperei No, no, no Vabbè, già che siamo, salutiamo tutti quanti e li ringraziamo Ci vediamo su News 25, su Rocco TV E sul salutatore del blog Ciao a tutti, dal News 25, dal Jets, com'è il tuo nome di battaglia? Salutatore del blog Chris Attigere Ah, allora, dal nostro Gabri Gabra, il salutatore del blog, Christian T.J., direi che è veramente tutto Ma tutto tutto no, perché facciamo per Michela un piccolo rap di appello Con il rap Ok, dato che siamo su TV News 25, non voglio dirlo con altre lingue Torna a casa Michela in questa sera di San Michele con troppe mele, che le speranze adesso ritorneranno vere Io saluto tutti quanti, speriamo, la mente viola, sono un po' preoccupato per la camicia viola Però, forse è la fortuna Anziamo la mano soltanto una e con l'altra ci tocchiamo Perfetto, ciao Grande Gabri Gabra Christian T.J., ciao Rocco Ciao